1.000 persone ed oltre 900 veicoli controllati nell'ultimo mese ad Arezzo, 200 posti di blocco effettuati, 3 arresti ed oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate. Sono solo alcuni dei numeri che compongono l'intensa attività della Polizia di Stato sul territorio aretino nell'ultimo mese. A fare il bilancio dei 30 giorni appena trascorsi è il questore di Arezzo, Bruno Failla, che sottolinea una diminuzione, il 30% dei furti nell'aretino in controtendenza alle medie nazionali. In calo con un aumento, come già detto, delle misure di prevenzione, che è un provvedimento che noi stiamo cercando di incentivare e di applicare laddove ne ricorrono le condizioni, questo non ci comunque soddisfa, nel senso che è vero che furti in appartamento o in abitazione sono in calo, ma anche laddove il domicilio di ogni singolo cittadino viene violato, per noi è un motivo di profonda preoccupazione e quindi di grande spunto e stimolo a fare sempre meglio per contrastare questo genere di reato. Sicurezza partecipata rimane per il questore di Arezzo la parola d'ordine raggiungibile attraverso una rete tra istituzioni, cittadini e forze dell'ordine. Siamo molto vicini alla cittadinanza e la cittadinanza se ci aiuta, se ci fa da occhi sul territorio in modo da poterci collaborare, ci fa una grossa mano, ci aiuta molto e noi saremo ben felici di dare un prodotto di sicurezza alla cittadinanza a retina che sia il più possibile fattivo ed efficace.